Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati signori, è bellissimo ritrovarci ogni mattina a far due chiacchiere Prima di cominciare, link in descrizione, si scaricherà di OneFootball, che è quella che vi tiene aggiornati sotto e quante le notifiche e le notizie del Milan Quindi attenzione, abilitate le notifiche push così che vi arriva la notifica quando c'è qualcosa che riguarda la tua squadra del cuore Con questo partiamo un attimino con calma Allora, prima di tutto mi è stato detto di non spiegare l'italiano in un video, quindi ti ringrazio amico che mi ha detto di non spiegare l'italiano E di non esprirmi troppo complicatamente Va bene, vediamo di fare video più sintetici Quindi finisce qui il video, no scherzo Allora, parliamo subito del discorso Sanchez e Botman Botman pare non sia una priorità per il Milan Questo sembra appunto uscire ormai alla luce, l'ho scoperto che il Milan non è interessato a Botman Questo di fatti è quello che pensavo anch'io un po' di tempo fa Anche perché bene o male la difesa è abbastanza coperta Per cui, beh bene, mi va bene investire quel capitale che abbiamo da investire qualunque esso sia Nella tre quarti sinceramente perché penso che lì ci sia veramente bisogno di fare un po' di maintenance Per cui vediamo un attimo cosa succede su questa parte di mercato Perché adesso cominciamo signori, adesso veramente si comincia Adesso aspettiamo solo il rinnovo di Maldini e Massara Come dicevo io in un video un mese fa Che senza di quelli non si comincerà il mercato Difatti adesso cos'era così Si firmerà per Maldini e Massara E poi si partirà col mercato in quarta C'è da ragionare molto sulle teorie che si stanno approcciando Come andranno spesi questi soldi e dove andranno spesi Additura teorie che Elliot e Robert non hanno soldi Le pezze al C come dice qualcuno Mi fa piacere, mi direte conto che vi fanno il lavaggio del cervello Perché questo è chiaro Se guardate gli articoli giornali sono tutti quanti contro il Milan Tutto quanto qua è negativo, tutto non va bene Il mercato apre il primo di luglio signori Cioè non so se avete capito Il mercato apre il primo luglio Quindi aspettate un attimo Cioè calma, aspettate un attimo Il primo di luglio si aprirà il mercato E arriverà ancora quello che deve arrivare Se fate caso, ufficialità di nessuna squadra sono arrivate Perché apre il primo luglio Per cui, signori, calmatevi Calmatevi e tutto quanto va bene Aspettatevi un bel calcio al mercato Una cosa interessante Intanto ci cominciamo a preparare perché domani O è oggi? Domani Domani c'è il sorteggio Il calendario della Serie A Per cui finalmente abbiamo qualcosa da vedere Come gestiranno le prime 15 partite in tre mesi Praticamente un campionato E in più si è partita di Champions League Per cui ci sarà molto da vedere Molto da fare secondo me In i primi tre mesi di campionato Che parte il 13 di agosto Quindi sinceramente manca anche poco Se ci ragioniamo sopra Visto che si ritrova il 4 luglio Dopo un mese e dieci giorni si comincia il campionato Praticamente Per cui Un mese e nove giorni Per cui siamo quasi Siamo già quasi pronti A cominciare a parlare di calcio vero E non vedo l'ora Perché ovviamente sinceramente Parlandoci molto chiaramente Visto che ho detto Parola in rima E è arrivato anche il momento Di vedere un po' di calcio È solo un mese che è finito il campionato Ma io non lo posso già più Ovviamente tutti questi rumors Queste notizie Queste dichiarazioni Non aiutano Perché non aiutano per niente Il Milan secondo me Sta soffrendo più degli altri L'immobilismo Adesso vediamo questo immobilismo Sono curioso appena Arriva il primo luglio Di vedere l'immobilismo Quanto immobile Cosa che penso che sarà divertente Sembra fatta per Lukaku L'Inter Sembra appunto che Lukaku arriverà Arrivando lui Ci sarà un sacrificio ovviamente Di uno o due big E probabilmente Di Bala Non verrà preso Quindi Non sono molto preoccupato Onestamente di questa sensazione Come dice Cassano Lukaku è un fenomeno In Serie A Ma in Europa Non tanto E negli altri campionati neanche Per cui sono tranquillo signori La nostra squadra è una squadra europea Avremo filo da torcere un po' a tutti Con questo Un saluto Un abbraccio E sempre Forza Milan